E' stato vice ministro, li conosce. Io sono nuovo nella politica. Però a cosa ha capito dei capi di gabinetto? A me è bastato leggere il libro Confessioni di un capo gabinetto per capire molto. Quindi francamente il capo gabinetto dà l'indirizzo politico alla parte amministrativa. L'indirizzo può essere dare o non dare informazioni. Io le faccio un esempio. Qualche mese fa ho parlato con Agostino Miozzo che era al CTS e a fine di ottobre mi ha detto io avevo l'ordine di non darti i documenti e di non far passare le tue informazioni. Che è una cosa gravissima. Perché io ero il vice ministro, non ero il pinco pallino qualunque. Quindi ho avuto un CTS che per sette mesi non valutava nemmeno quello che scriveva. Infatti si era visto. Però quando lo dicevo lo strano ero io. Quindi tra un po' non la faranno venire neppure, non è più l'arena. Ma le minacce di cui voi parlate, non pensate che arrivano solo ai giornalisti. Paragone diceva delle risposte alle interrogazioni. Io sono mesi che ho chiesto di rispondere all'interrogazione sulla faccenda di mia moglie delle iene dello scorso anno. perché io ci tengo a spiegare quello che è successo e dare delle risposte. Non riesco a rispondere per dare chiarezza su mia moglie. Non è una cosa normale. Allora, Jason.